una custodia attenuata proprio per le richieste per la specificità del centro diurno, anche perché poi le persone che frequentano il centro diurno devono poter uscire da una stanza, entrare in un'altra, c'è una rotazione in media di al giorno 12 persone che fanno le attività, durante la settimana arriviamo a 25 perché sappiamo benissimo che c'è il giorno in cui sono presenti tutti i 25, ma è rarissimo.